Vuoi aumentare le tue vendite utilizzando canali online, ma non sai come fare? Vorresti incrementare i margini ottimizzando i costi di gestione? Hai provato ad avviare un e-commerce, ma ti sei reso conto che servono troppe risorse e conoscenze per farlo in maniera professionale? I tuoi concorrenti stanno avendo successo e tu non sai quale soluzioni adottare? Non aspettare ancora, non perdere le opportunità che il mondo digitale ti offre. Da oggi con iPlanet360 non ti devi più preoccupare della piattaforma di e-commerce, dei costi di magazzino, dei costi di personale, del packaging dei prodotti, dei prodotti venduti, della gestione delle spedizioni, di promuovere la vendita su Amazon, Ebay, e-price, seguire lo stato di avanzamento degli ordini, di aggiornare prezzi e disponibilità. iPlanet360 è il servizio che sta rivoluzionando il mondo dell'e-commerce. Oltre 200.000 prodotti completi di foto, descrizioni commerciali e scheda tecnica, già disponibili per la vendita. E puoi sempre integrare ai nostri cataloghi i prodotti che vendi normalmente, senza alcuna limitazione. Con iPlanet360 tu vendi e incassi, a tutto il resto pensiamo noi. Un insieme di soluzioni chiave in mano che soddisfano a 360 gradi ogni tua necessità. Con iPlanet360 conservi la tua identità, ti distingui dalla massa utilizzando i migliori strumenti presenti sul mercato. Scopri subito la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze.